lei è morta ma chi lo moche stia rialza no malo masla oie feccia suau e zuccher zauva gno santi alla no malo limona e no vanilino no mica no postino dei miei prezzi mora male snomalo testo ma tolè testova a pokryta je zapienito zaronato ale tolè rubanciane alora tolè a tolè è orella che zamlijat a vedi che è dosta pocara non ho preda se rinala e tlè è prevec e troppa questa roba per fare un due gubano è tolgo un po da me procuna malo pocara a questo lì è che è zamlijato ma lìia si mora zamlijat e mora sempliati e preveni il suolo a non ho prege lìia sono trattati ma un pocara che ci sono trattati a c'è che sarebbe un'o oriega oria che si trattano ma anche buosta che ci sono trattati a non c'è un'o a non c'è un'o che è un'o a non c'è un'o a mell'entrullo attacqua dottoman che è pucchile come pucchile orieco vengono conoscato con uno scato e uno bielo va macrarre e un pochile oreggio zucar la prigione e poi ci sono un po' di più di più di zucchero. Perciò che abbiamo fatto il zucchero, abbiamo fatto un po' di più di 5 litri di zucchero. per 5 giorni. Poi... Poi... Qui ho fatto una nuova ... 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 Sì. Sì, sì. Sì, quando si緣e, posso spostare prima di fare la pasta. L'arguardo è da non riuscita. L'arguardo? L'arguardo, sì. E non il sango? Non. Poi, ora si sposte un po' di sanga per il riscovo. Poi, ora si apriva. L'arguardo sono riuscita. Mi sono molto più grande, ma mia mamma è mia mamma, ma mia frascita, mia sovcevaka. Ad nekladano, dopo, ad nekladano viškote, ed è molto bello, e nel mio tutto di schienzo. Mi chiede a rivelare, quindi ci ricordiamo. Quando non sono errati di moche, non sono errati in paura. Sono rinali, la mia mamma, la mia... Lei è una cosa, è una cosa. Sì, a volte non vengono un altro lezione. L'altro è una cosa che dicevo, per quanto sia un giulato. che sono 6 giorni, la mia torta, la mia burbanzo la strughe e il norello, così finito tra voi, la fine ragione allora io metto così, questo è poco, è un panino tutto qua tutto un panino, metto un po' dopo, posso metterlo anche tutto ecco se nemmeno male il masano da soggere scopo il po' e' così, un po' si è stato cricato, lo sto a fare Diciamo questa parte,? No, non ci soggeremo, non ci soggeremo, non ci soggeremo Non ci soggeremo, non ci soggeremo La riola a sottola Le prende un po' Gli ero La scoperta poi lo tocco, non ci sono il pinolo la città è bello, e poi lo puo prendere ora ho chiamato un po' di più e non sovieno, non sovieno le duele tagline, non sovieno ma crebile rite, non sovienico ora d'alba un po' ok cosa può essere così è un po' di più Sì. Sì, non lo vengare. Poi mettere le toalette per le fai. Caccao. per i frioli ma c'è un arretto un bancagne e se la vista molto mai e puno di alla zona lest non c'è non c'è se no ma l'opera sasena bene nasla questo che si faceva alla fine della piena gione per far festa quando si finiva tutto il pieno d'estate la rosa per i 15 era un po la tradizione diciamo più o meno avranno finito il pieno perché secondo come l'olio è il zucchero allora non c'è il grino malo vats c'è e oreggia e oreggia non sovrappola 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 ma è stato un po' troc è molto bene si è piocano e ho della così più o meno che penso che basta ma se mora dietro va a gusti allora se dà stai a cominciare morano a riservare se ne mora a mia tazza prima non sovrappola e noi non sovrappola non sovrappola ma non sovrappola ma non sovrappola non sovrappola svegliamo vedi stai a prendere da la nostra scura sto bene bene un po di cacao ci vuole perché se non viene troppo proprio svelo siccome se è un malo malo c'è un malo sa muo' sassegnando si è scoperto ma è una sommiera che a chi si sa dire si è scoperto, 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 si è scoperto bene, ho me, biscotti, quelle normali di un kilo però sembra di riprendere la papetta, dalla mia mamma e la sua telefonia che non ha la cronaca. Allora, se da, dalla mia mamma e la sua telefonia che non ha la cronaca. Non è una cosa che mi manda la telefonia, ma non ce ne è molto bello di scatto da quando la mia mamma è andata in pettole. Poi ci sono a dire che a voi mi dà una testa. manzano chilo moche se mora diet se adesso ci sta via non sa qui salman fezza di mezzo chilo bisogna mettere un quei cubetti o due tre cubetti perché adesso riedito ancora un'altra volta a fare nel forno a legna questa viene abbastanza grande perché 750 grande mezzo chilo viene da qua viene quasi un chilo e questo è vecchio chissà quanti anni quante cubane sarei sarei veramente ricca cazzo 6 mila e romano confetto si voglio direzzi ma rosaio da ne cadeo veder sono tante qualità anche i strucchi fritti quelli che lievitano, che si lievitano, quelli che fanno con l'altro, quelli che sono più friabili diciamo svasa via svasa via e che è sacrati, dai, mi puoi mettere un cuore per me che è sacrati, nemmeno male, ma anche la tutta che poi c'è, 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 c'è aspetta che si è rotta qua si è rotta ho fatto troppo sottile da una parte l'ha giusto? lo blecano? forse ho fatto anche troppo sottile allora, per fare l'impasto, io metto un po' di burro, così, a occhio e poi metto l'olio, non metto caldo, sì, quando è tiepido poi misuro su un uovo, perché metto quattro uova quattro uova per chilo di farina e più o meno due cucchiai due cucchiai che si adoperano in cucina due cucchiai di burro assiolto e di olio, insomma, insomma adesso faccio il fuoco sì, è già fratto, perché per mettere dentro il pane bisogna che sia ben caldo la schiena e il fuoco e o da pomažem pomažem, da da se bo la sciella rubanca le forse sono tirata prevec, sono pavolieta prevec testo Grazie. Adesso assaggiamo se è venuta bene o no, è vero?